Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo appuntamento con Crash Oggi ci tocca il livello più bello del mondo No, non è vero, credo sia uno dei livelli più intensi che si può trovare su Crash Ovvero quello del futuro E poi il boss Il boss invece vi assicuro che è molto carino Ma non perdiamo tempo Entriamo subito Questo l'abbiamo già fatto E il 19, Future Frenzy Quello di averlo letto malissimo ma va bene Ok Qua ci sono ragioni laser che vanno evitati Ok Mh Mh Non c'è idea che questa scoppia col nitron Facciamo così Sì, quelle no Ok Facciamo così Mela, mela, mela Ok Oh no Andiamo nella direzione apposta Che cazzo 133 Pazziti Completamente impazziti Carini Con l'astronave Che cazzo 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 beh me l'hanno messo apposta vola ascensioni dai piattaforma dai la me ok ok bella bonus andando con calma per osservare se c'è qualcosa ok ok oh cavolo ma fregato non ci credo il bonus mi ha fregato che voleva che facessi così devo provare sta cosa no ecco lo faccio preciso far così mi sa chi è questa ce la freghiamo fatto un tentativo non riesco a passare senza distruggere quelle casse o ci serve un'abilità che prenderemo la fine di questo mondo mi so ce l'ho fatta è giulino ma ci sono fatta è giulino ma ci sono fatta ma ci sono fatta ma ci sono fatta che c'è oh ma dove ho messato le casse c'è più segreti di quanti pens ci sono due gem pure ci siamo siamo arrivati al boss spero di farlo per bene senza troppi intoppi ma credo sia difficile eh si si fa con coco è proprio spaventato guarda con l'astronave contro il robottone è un po' bello dobbiamo distruggere tutti i punti d'attacco che tiene dovrebbe essere 5 per l'appunto uno scoppierà una certa no? troppi missili andata anche c'è un lanciamissi altro lanciamissi ok fatta seconda fase aiuto poi qualcosa scoppierà sono uno sono due sono troppe cose ci seguono oh no cazzo è quel cosa ancora non l'ho capito ok sono due missili let's go abbiamo ottenuto il bazooka per lanciare la frutta contro un bersaglio tieni premuto l2 per usare la pisarra prendi la mila con i tasti regionali quindi premi il cerchio per sparare è questa è tanta roba che permetterà di pendere casse imprendibili fortissimi è stato più facile del previsto allora è vero che la storia si ripete di nuovo engine non è riuscito a sconfiggerti cosa pagherai per questo affronto la mia povera testa non sono molto in forma ultimamente la fine è vicina ancora cinque cristalli e manderai a monte il mio piano o forse cosa avrei voluto dire beh ci conviene essere pronti ultimo mondo mondo futuristico voglio guardare i livelli non me li ricordo per nulla ok non tomorrow al livello futuristico ora non c'è l'asfalt oh no non me la ricordavo questa gara no saranno livelli incubo un altro ladino un altro livello con l'aereo e questo quale bug light è un altro livello egiziano ma non me li ricordavo proprio io sti livelli nulla va beh ma questo è tutto materiale per la prossima volta quindi non ci pensiamo adesso saranno degli episodi molto divertenti e duri da fare però però vi faremo io ragazzi vi do appuntamento alla prossima volta ciao 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 Grazie per la visione!